La Valle d'Aosta è caratterizzata da venti di direzione sostanzialmente da tutte le direzioni. Tuttavia, due sono i venti davvero caratteristici della nostra regione, il Fön e le Brezze. Il Fön è un vento particolarissimo, in realtà non è proprio un vento, ma è la caratteristica che acquisisce un vento incontrando un ostacolo alpino importante, ad esempio tutte le nostre montagne. La Valle d'Aosta è soggetta a numerosi episodi di Fön nel corso di tutto l'anno con venti di provenienza settentrionali. In questi casi, molto spesso, le temperature che vengono registrate ad Aosta, e non solo ad Aosta, ma in tutta la valle, possono subire variazioni consistenti anche in pochi istanti di tempo. Ad esempio, si possono passare da 5 gradi sotto zero ad Aosta la mattina presto, a 15 gradi sopra lo zero, in meno di mezz'ora. Questi episodi sono proprio legati alla presenza di Fön, che scende dalle montagne, dal settentrione, e durante la sua discesa si riscalda. L'altro secondo vento caratteristico della Valle d'Aosta è la brezza. Le brezze, in realtà, uno pensa che si possono osservare solo durante il periodo caldo. In realtà, sono presenti nella nostra regione anche d'inverno, a causa, appunto, della diversa illuminazione di tutti i pendi di tutte le valli presenti nella nostra regione. La caratteristica della brezza è quella di diventare via via più intensa durante la giornata, e di raggiungere la sua massima intensità nel pomeriggio. Si pensi che ad Aosta e in tutti i paesi del Fondovalle, tra le 14 e le 17 del pomeriggio durante l'estate, questo vento può raggiungere anche i 40-50 km all'ora, rendendo ad esempio difficile stendere i panni.